raga battiamo la lazio 1 a 0 e siamo a punteggio pieno ragazzi grandissima partenza in questo campionato magari abbiamo non abbiamo scintillato a livello di gioco questo possiamo concederlo ma sicuramente a livello di risultati stiamo martellando alla grande martellando alla grande e mi fa un gran piacere quindi siamo primi da soli ci confermiamo e oggi il gol decisivo ragazzi lo fa d'ambrosio danilone me lo mette danilone lo mette il gol cosa avevo detto quando qui dicevate mano d'ambrosio guarda impossibile che giocherà alla destra conte non lo farebbe mai non è il giocatore per conte per fare tutta la fascia voi dovete stare zitti e dovete capire che d'ambrosio fa quel cazzo che gli pare quando gli pare non ce n'è candreva giocava bene non conta un cazzo alla fine gioca d'ambrosio o centrale o difensore o all'ala gioca d'ambrosio e d'ambrosio porta sempre a casa la prestazione ragazzi ormai sono due anni che è cresciuto esponenzialmente danilone quindi grande rispetto per danilone oggi un altro che ha fatto una grande partita e stefan devrai stefan devrai veramente ragazzi oggi è stato strepitoso strepitoso ha dato una sicurezza fatto delle chiusure fondamentali poi io che ho giocato a difensore centrale io non so come cazzo fa fare quegli interventi dietro le braccia come fa mantenere l'equilibrio fino all'ultimo comunque veramente devrai per quanto mi riguarda migliore in campo subito sotto devrai ci metto andano vice che ha fatto tre interventi strepitosi strepitosi perché il nostro problema anche oggi è stato che abbiamo concesso 45 palle gol di cui 34 belle belle che veramente ho detto cazzo hanno hanno pareggiato invece è andata bene è andata bene quello dobbiamo riconoscere ma era anche ora perché la lazio aveva belli belli che rotti i coglioni a san siro prima o poi doveva perdere visto che ultimamente veniva sempre a ballarci sulla minchia quindi finalmente stavolta glielo abbiamo inserito nell'apposita fessura poi vorrei parlare un minutino un minutino di barella avevo ragione a dirvi da aspettare avete visto come sta crescendo il ragazzo anche che belle aperture che ha fatto oggi i cambi di gioco peccato che si è pappato il gol perché si è emozionato è andato troppo sotto a stracoscia doveva tirare un secondo prima quanto ancora aveva più specchio di porta a disposizione però ha fatto una partita da 7 in pagella barella veramente grandioso in una giornata nella quale a centrocampo ci mancava sensi e si è visto perché vessino purtroppo ha fatto una prestazione insufficiente mi dispiace dirlo perché grande rispetto sempre per vessino che è l'eroe che ci ha riportato in cempio ci ha riportato sulla mappa del calcio con spalletti quindi grande rispetto per l'eroe del la prende vessino ma non ci siamo e infatti nel secondo tempo quando è entrato sensi se avete notato abbiamo ripeso un po il controllo delle operazioni perché con sensi e barella il centrocampo palleggia meglio ha più controllo di palla più uscita e anche per brozovic è più facile scaricare perché voglio dire non è l'unico sul quale si devono concentrare gli avversari a livello di pressing perché la palla la sanno giocando anche sensi in primis e barella in secondi se lo stanno dimostrando quindi tanti lati positivi senza dimenticare le lacune difensive che abbiamo che vanno aggiustate assolutamente ma tanti lati positivi stiamo salendo di condizione stiamo diventando belli cazzuti perché gli ultimi due secondi tempi sia col milan che con la lazio oggi siamo andati increscendo e questo mi fa ben sperare che la condizione sta arrivando e sono convinto che ancora possiamo dare sicuramente un bel quid in più anche a livello di corsa di pressing le squadre di contesto squadre che pressano noi stiamo pressando bene e sono sicuro che possiamo fare ancora meglio comunque oggi vittoria pesante ragazzi vittoria peso specifico pesante perché la lazio voglio dire è due spanne sopra il milan quindi abbiamo battuto la più forte da quando è cominciata la stagione e questo da morale fa piacere ora ragazzi dimentichiamoci sta partita ci gustiamo i servizi stasera tatatac un po di divertimento domani poi spero che tutti si concentrino sulla partita contro la sandoria una sandoria in crisi dove vediamo di non fare beneficenza come al nostro solito perché mi tenderebbe a rompere il cazzo andiamo lì e bastoniamo e diamogli sotto poi nel calcio può succedere tutto ma l'importante è che entriamo belli carichi ma da questo punto di vista questo è uno dei pregi che riconosco a conte sa martellare bene su queste cose quindi bene così ragazzi bene così godiamoci primo posto pronti per sabato e non fermiamoci cazzo bella raga per me c'è solo l'inter grazie a tutti